Ciao a tutti ragazzi, ogni promessa è debito, come avete visto su Instagram ho deciso di iniziare una serie tutta dedicata alla psicologia del ciclista. Diciamocelo subito, ci sono due grandi mondi da esplorare, quello dei professionisti da una parte e quello degli amatori dall'altra. Quindi addentriamoci dentro la mente del ciclista che vi assicuro è un viaggio molto tortuoso. Tutti i più grandi preparatori atletici e allenatori che seguono grandi campioni del ciclismo e non solo sanno che da un punto di vista della performance un professionista deve essere forte sia da un punto di vista atletico ma anche da un punto di vista psicologico. Sono tantissimi infatti i campioni che sulla carta hanno delle potenzialità incredibili, in allenamento fanno il mazzo a tutti ed esprimono un potenziale veramente mostruoso. Però può capitare che nel giorno della gara o nel giorno di una grande manifestazione sportiva o di una corsa a tappe questi stessi campioni abbiano un crollo psicologico, un crollo emotivo perché si innescano dei meccanismi diciamo così distruttivi. Cioè se da una parte l'allenatore deve essere bravo a tenere alta la motivazione nell'atleta creando situazioni psicologiche che sorregano il carico emotivo a cui l'atleta va incontro quindi meccanismi di fortificazione diciamo così psicologica, dall'altra parte a volte può capitare che questi meccanismi vengono sostituiti da dei meccanismi distruttivi cioè che distruggono l'autostima e la motivazione in questo caso del ciclista, trascurando ovviamente e distruggendo anche tutto quello che il ciclista ha fatto di buono durante gli allenamenti. Nella mente del ciclista non c'è più la volontà di competere, non si innescano più quei meccanismi psicologici che fanno rendere anche più del 100% all'atleta ma in modo del tutto inspiegabile si entra in uno stato di sabotaggio. Cioè l'atleta dice io lo so che sono più forte di loro però oggi ho una giornata no. Allora piuttosto che impegnarmi con atleti che sono più deboli di me io inizio a sabotare la mia gara. Durante queste fasi critiche che potrebbero compromettere la carriera di un ciclista o di uno sportivo l'allenatore gioca un ruolo chiave. Deve essere bravissimo ad insinuarsi all'interno di questo meccanismo di sabotaggio, capirlo, arrestarlo e invertire la rotta. Come si può fare? Per prima cosa non si deve mai colpevolizzare l'atleta, sto parlando di atleti professionisti. Dicendo anzi la colpa è mia, dell'allenatore, fammi capire che cosa sta succedendo, fammi capire dove ho sbagliato. Cioè deve essere il ciclista che si sente superiore a voi perché questa superiorità deve poi tornare, deve tornare in gara e lui si deve sempre sentire superiore anche contro i suoi avversari. Queste situazioni avvengono soltanto quando la competizione si fa estrema, quando lo stress diventa altissimo e quando la psicologia invece di sorreggere il carico di lavoro, anche mentale, a un certo punto innesca un meccanismo di autodistruzione, di sabotaggio. Quindi ragazzi, questo è soltanto il primo di una serie di episodi che cercherà di capire che cosa succede nella mente dei grandi campioni. Parleremo poi anche della psicologia degli amatori che è tutta un'altra cosa basata su principi totalmente diversi e parleremo anche di un sacco di altre cose che a livello psicologico entrano nella nostra mente. Spero che questa serie di video vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento e alla prossima, ciao!